Neo eletto sindaco di Polla Rocco Giuliano, un rapporto, quello con il presidente della regione Caldoro che oggi si consolida ancora ma che nasce fra le fila del Partito Socialista? Nasce politicamente ma anche di amicizia. Certamente veniamo da un'area politica lontana dove il Partito Socialista in questo territorio ha rappresentato qualcosa, ha rappresentato forse la ricchezza di questo territorio e anche il cambiamento. E oggi sentiamo di ritornare a quei momenti. Sopriamo che insieme al presidente che è il nostro riferimento politico possiamo riportarci a quei tempi e vivere quei tempi anche se la politica non c'è più, i partiti non ci sono più ma noi penso che sforzeremo a trovare soluzioni anche perché penso che la politica porta entusiasmo e se c'è l'entusiasmo penso che le cose si fanno anche meglio. Io devo ringraziare il presidente per aver trovato oggi lo spazio, nonostante i tanti impegni che ha avuto in Ercilente e altri impegni che ha ancora, ha trovato spazio per portare la sua vicinanza e i suoi auguri al nuovo consiglio comunale, non solo al sindaco Rocco Giuliano che ci conosciamo da lontana e ho fatto l'amministratore per tardi in questo comune ma soprattutto ai nuovi eletti. E penso che la regione sarà vicina a noi a lasciare, finché questa comunità, questo sindaco con la mia squadra possa lasciare a questa comunità un segno, giorni, voi giorni, domani questa cosa sarà fatta dal partito socialista ma sarà fatta soprattutto dalla squadra di Rocco Giuliano. Noi cercheremo di affrontare con serenità, è un comune virtuoso, possiamo dire, anche se c'è qualche debito. La prima azione è quella di abbassare la pressione fiscale, quindi in questo momento di crisi in cui le famiglie sono imboverite, soprattutto da questa crisi economica, dobbiamo cercare di venire in conto delle esigenze della famiglia, quindi di abbassare la pressione fiscale. Sono tanti i progetti in corso di finanziamenti ma anche quelli finanziati, se riusciamo a portare a termine tutti questi finanziamenti già certi e quelli in corso penso che sicuramente bolla ma cambierà volto. E ci sarà soprattutto una crescita, soprattutto economica ma anche occupazionale. Ma noi con la nuova squadra e con l'esperienza del passato sicuramente porteremo a termine quelli che in effetti i cittadini di Polo si aspettano da questa nuova amministrazione. Ma è tanto un'occasione per me importante di conoscere, io già conosco ovviamente Polla e mia amicizia di tanti anni con Rocco e quindi questa città vive in un momento di sviluppo difficile perché nella nostra situazione, nella crisi economica c'è attanaglia, però abbiamo delle risorse straordinarie e dovremo forse iniziare a vedere quelle cose che prima erano un po' nascoste e dobbiamo valorizzarle. Eravamo prima più abituati a valorizzare politiche di sviluppo più tradizionali, oggi la crisi queste le blocche, quindi abbiamo compito gli amministratori locali, nostra e di tutti, di trovare quelle energie che un paese deve cercare nei momenti di crisi. Qui ci sono delle bellezze straordinarie, bisogna valorizzare quelle, hanno anche un valore storico, un valore culturale e credo che sia il nostro grande vantaggio competitivo e quindi fare in modo che anche i giovani si avvicinino a questa politica di sviluppo e noi fare la nostra parte, quindi stare vicino a tutte le comunità locali. Credo che l'esperienza soprattutto in questi momenti conta, però visto che ci sta un consiglio cumulare fortemente rinnovato, uomini, donne, c'era questo orgoglio della presenza femminile che viene rivendicata con forza. E quindi insomma, in questo momento fare gli amministratori locali non è facile, in Rocca ho avuto varie esperienze, quindi sa come era farlo prima, come farlo oggi, oggi bisogna sacrificarsi di più, lavorare di più. Ci sono delle situazioni di progetti in corso, delle possibilità di riprendere investimenti e aggiungo che chiaramente avremo nei prossimi mesi, quindi abbiamo previsto nei prossimi due anni, alcune misure specifiche soprattutto per i comuni piccoli. In particolare sulle politiche dell'ambiente, sulle questioni idrogeologiche, sui beni culturali, sull'efficientamento energetico, quindi avremo una serie di misure proprio per i comuni, piccoli comuni, medi comuni, che lo possono fare o in forma diretta, solo loro, o in forma associata con altre unioni, ma comunque presentando dei programmi. Su questi programmi abbiamo avuto già il via, quindi credo che anche prima dell'estate ripartiranno i primi bandi.